Il Partito Democratico è orgogliosamente in piedi, è un partito che è stato colpito in modo duro nelle ultime amministrative ma che non si è piegato. Così giudica Massimiliano Dindalini, segretario provinciale del PD, l'esito della direzione provinciale dei giorni scorsi. Due giorni di riunioni durante i quali il PD si è riunito dopo che Dindalini aveva rimesso il proprio mandato in seguito alla batosta elettorale dello scorso giugno, sulla quale avrebbe influito, secondo il segretario provinciale, anche il provvedimento su Banca Etruria. Adesso non ci sono più appelli ma solo una fase di ricostruzione del partito che proverà a riavvicinarsi alla base. Credo che sia importante non ridurre i due giorni di assemblea alla votazione. C'è stato un importante dibattito profondo all'interno della direzione del partito, un dibattito che continuerà anche nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, nei vari organismi dirigenti, durante le feste dell'unità. È stata approvata la relazione che ho portato in assemblea il primo giorno, quasi all'unanimità, con solo due astenuti. È stato approvato un ordine del giorno proposto dal partito di Cortona, emendato in direzione. E poi c'è stata la votazione sul respingimento delle dimissioni del segretario che, come dicevi te, ha visto un fenomeno particolare, che è quello dell'uscita dalla sala di una parte del PD. Io credo rispetto a questo che il PD, così come tutti i gruppi dirigenti, crescono se si assumono la responsabilità. Avrei preferito che soprattutto i dirigenti di livello nazionale e regionale del mio partito, anziché uscire dalla sala, affrontassero quella votazione dicendo se erano favorevoli e se erano contrari, con chiarezza e con franchezza. Questo credo che forse è la piccola cosa che ha stonato alla fine di due giorni di importante discussione che ha come obiettivo rilanciare il PD. Democratico.